Una festa in famiglia, un momento di convivialità gioiosa, ma soprattutto l'incontro d'amore di un padre con i suoi figli più deboli e marginati, spesso scartati dalla società. È stato questo il senso della visita a sorpresa che il Papa ha voluto compiere nel venerdì della misericordia recandosi presso la comunità Il Chicco di Ciampino alle porte di Roma, dove sono ospitate in due diverse case, la vigna e l'ulivo, persone con disabilità mentale, anche grave, che necessitano assistenza continua. Il Pontefice ha portato un vassoio di dolci e un grande cesto di frutta e una volta nella struttura si è seduto a tavola con gli ospiti e i volontari, intrattenendosi con loro in modo semplice e spontaneo. Ha ascoltato le parole di Nadia, Salvatore, Vittorio, Paolo, Maria Grazia, Danilo e ha raccontato ai volontari il suo viaggio nei luoghi della sofferenza. Successivamente ha voluto visitare i malati più gravi, dando segno di un profondo affetto e tenerezza, particolarmente verso Armando e Fabio, che furono i primi ad essere accolti nella comunità 30 anni fa. Al Pontefice è stato mostrato anche il laboratorio artigianale, dove quotidianamente vengono creati piccoli oggetti che esprimono la creatività e la fantasia dei membri del Chicco. Infine, nella cappella della struttura, Papa Bergoglio ha voluto pregare, tenendosi tutti per mano prima di far rientro in Vaticano, e ha chiesto agli operatori e ai volontari di portare nel mondo un po' di tenerezza, di spargerla, di regalarla, soprattutto a quanti non hanno mai avuto una carezza. Grazie. 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 Grazie.